Corvino Bike, via Taverne 57, Nocera Superiore Grande successo ieri per il concerto TV Project, sigle TV in chiave Jazz il gruppo ospite a Vietri Scena, la rassegna di musica, teatro e danza che si sta svolgendo nella villa comunale di Vietri Sul Mare un ensamble del tutto singolare, composto da Sandro De Hidda al sax e clarinetto Giampio Vetromile al pianoforte e tastiele, Angelo Carpentieri alla chitarra elettrica Paolo Pelella al basso elettrico e Giampiero Virtuoso alla batteria che hanno proposto un viaggio musicale con le più belle sigle delle serie prodotte dalla RAI capace di convolgere l'ascoltatore in un gioco di memoria e di ricordi Da Gamma, Jazz Band, a novantesimo minuto, dove Anna è il ritratto di una donna velata Prossimo appuntamento lunedì 29 luglio con Romance in collaborazione con il conservatorio di musica Martucci di Salerno con Giovanni Amato alla tromba, Dario De Hidda al contrabbasso, Alessandro Castiglione alla chitarra che proporranno gli standard jazz completamente rivisitati La rassegna Vietri in Scena fa parte di un ampio progetto Vietri Cultura organizzato dall'amministrazione comunale De Simone di Vietri Sul Mare ed in particolar modo dall'assessore alla cultura, al turismo e allo spettacolo Antonello Capozzolo, in sinergia con il direttore artistico, il maestro Luigi Avallone